Avvistata la Serbian Dancing Lady in una casa! Questo mi fa pensare che è un pochino fake Però io ve lo dico comunque C'è questa ragazza che si siede E poi tutto ad un tratto arriva questa persona Da dietro la tenda Che si mette a fare il balletto della Serbian Dancing Lady Ma non ha senso Secondo voi real o fake? Iscrivetevi